eccoci qua ragazzi e bentornati sul mio canale come state beh vi state domandando ecco il nostro magic finalmente sentiamo la sua voce beh ragazzi ogni tanto dai ogni tanto qualche parola insieme a voi che non fa male oggi voglio fare un video sfogo e volevo condividerlo insieme a voi ma prima di parlare di questo argomento ci tenevo a salutare tutti i miei iscritti quelli veri quelli che mi seguono da una vita che non smettono mai di seguirmi li ringrazio veramente di cuore poi ci tenevo a salutare i nuovi iscritti che ho visto che mi seguono grazie tante poi un grande saluto vanno i miei amici della vecchia guardia poi un saluto va da naro sensei un nuovo amico della vecchia guarda un mio carissimo amico poi saluto pachi magic che adesso non è qui con me è partito un altro mago di youtube un grande e ci tenevo a salutare beh ragazzi io quello che vi sto per dire non è niente di che però ci tenevo a condividerlo insieme a voi innanzitutto il mio canale sta andando a peggiorare e non capisco il perché ogni volta che pubblico un video 37 visualizzazioni una cosa che non lo posso accettare io non mi reputo un grande prestigiatore bravino dai questa è la parola esatta e non voglio neanche successo però un po di rispetto nei miei confronti lo voglio perché 37 visualizzazioni veramente qualcosa che non si può accettare e ci ho riflettuto molto dovrei chiudere il canale ma non lo faccio perché mi piace la magia e poi almeno quelli che mi seguono mi tengono in vita come si dice quindi non vi preoccupate che ci sono sempre però volevo condividere questa piccola cosa con voi io come vedete se andate a visualizzare il mio canale non faccio più le visualizzazioni di una volta 400 500 350 200 me ne bastano anche 200 visualizzazioni ma anche 150 150 ma non arrivo più a queste visualizzazioni 30 40 l'ultimo video che ho messo che ho fatto una piccola compilation diciamo si e no ho fatto tre visualizzazioni al giorno tre visualizzazioni al giorno che da quando l'ho pubblicato adesso sono passati sei giorni sono sbaglio 37 visualizzazioni e non è una cosa bella comunque niente ragazzi dai ho parlato già troppo volevo farvi vedere una cosa questi sono gli ultimi acquisti che ho fatto con un mio carissimo amico anaro sensei poi più avanti ve le farò vedere comunque sono bei mazzi di carte questo è il primo poi c'è il secondo il terzo il quarto questo se guardate attentamente vi fanno male un po gli occhi il quinto questo è un regalo se non mi sbaglio questo o questo mi ha regalato andrea ma non mi ricordo comunque io lo dirò e poi questo che mi piace un sacco beh ragazzi io vi lascio al video che tra poco partirà un bacio grande grazie di avermi ascoltato e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ok ragazzi un bacio grande e adesso si parte con il video ciao ragazzi a presto ciao 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 ciao